Musica Buongiorno a tutti ed eccoci ritrovati alla rubrica fotogrammi. Questa settimana per il ciclo Fin de Se, il cinema Aristoni Treviglio propone il film Una canzone per Marion che verrà proiettato mercoledì d'ottobre alle ore 21.15 con la partecipazione straordinaria dell'attrice Vanessa Redgrave. Musica Ed eccoci al film della settimana, questa settimana davvero un gran bel film, stiamo parlando di Gravity, Sandra Bullock, George Clooney è stato presentato recentemente con grande grande successo alla mostra del cinema di Venezia e arriva finalmente alle sale italiane. È un film molto particolare, girato appunto nello spazio, come vedete dal manifesto, insomma un film che ci saprà davvero coinvolgere. La proiezione avverrà in 3D, quindi coinvolgimento a 360 gradi e a 3 dimensioni. Gli astronauti Ryan Stone e Matt Kowalski lavorano ad alcune riparazioni di una stazione inerobitante nello spazio quando un'imprevedibile catena di eventi gli scaraventa contro una tempesta di detriti. L'impatto è devastante, distrugge la loro stazione e li lascia avvagare nello spazio dal disperato tentativo di sopravvivere e trovare una maniera per tornare sulla Terra. Il film, più che essere di fantascienza, pare d'avventura, nel senso classico del termine in cui l'essere umano lotta in scenari naturali in mozzafiato nel quale anche solo un raggio di sole che entra dall'oblò al momento giusto può far battere il cuore. Ed è ricchissimo il calendario della prossima settimana, partiamo subito a ricordarvi i primi eventi lunedì sera alle 20 e alle 22.30 riproporremo Animal House, il mitico film di John Landis quindi ci sarà davvero da ridere e martedì sera invece a partire dalle 19.30 lo vedete alle mie spalle partirà la stagione teatrale qui all'Aresto Moltisana in diretta dal Metropolitan di New York e mercoledì sera vi anticipiamo che davvero la serata del sé sarà da tenere d'occhio a partire dalle 20.30 anche con un collegamento speciale per il documentario per altri occhi.